Il campionato di eccellenza ha ufficialmente ripreso il cammino dopo le settimane di inattività della pausa natalizia. Nessuna novità nel girone A con la capolista Nissa che ha superato la difficile trasferta di Marineo con il risultato di 2-3 che ha sancito la vittoria contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Il sodalizio biancoscudato ha faticato non poco per ottenere tre punti pesantissimi che mantengono il profavare a distanza di sicurezza. Le reti del solito Gueye e la doppietta di Esposito hanno permesso alla squadra nissena di ricominciare con una vittoria. Le due reti dell'Oratorio Marineo non sono bastate per evitare la sconfitta. Questi i risultati della sedicesima giornata di eccellenza a girone A. Aspra Athletic Club Palermo 1-1, Accademia Trapani Folgore 1-1, Casteldaccia Don Carlo Misilmeri 0-1, Profavara Geraci 3-1, Unitas Sciacca Mazzara 46-0-0, Mazzara Castellammare 1-5, Oratorio Marineo Nissa 2-3, Super Giovane Folgatore 3-1. La classifica vede prima la Nissa a 46 punti, poi Profavara 40, Mazzara 46-34, Super Giovane 27, Castellammare 25, Athletic Club Palermo 23, Unitas Sciacca 21, Geraci Don Carlo Misilmeri 19, Folgore 18, Oratorio San Ciro e Giorgio, Casteldaccia 17 punti, Accademia Trapani 16, Fulgatore 10, chiudono in fondo alla classifica, Mazzara e Aspra a 8 punti. Nel girone B della massima competizione regionale, rovinosa sconfitta del Gela nel campo del Paternò che si è imposto con il risultato di 7-1. Un passivo tennistico che ha spazzato via il sodalizio gelese. La pratica è stata archiviata nel primo tempo chiuso sul risultato di 6-0, che ha disegnato una domenica da incubo per i circa 60 tifosi gelesi che sfidando le condizioni climatiche avverse si sono recati allo Stadio Falcone Borsellino per incitare la propria squadra, una debacle senza precedenti difficile da dimenticare. Questi i risultati della sedicesima giornata di eccellenza del girone B. Real Siracusa Santa Croce 3-0, Mister Bianco Leonzio 3-0, Enna Messana 2-1, Paternò Città di Gela 7-1, Rocca Quedolcesa Atletico Catania 1-1, Ionica Mazzarrone 1-0, Leon Fortese Nebros 0-1, Milazzo Modica 0-0. In classifica, Lenna Guida 38 punti, seguito dal Paternò 37, Modica 30, Real Siracusa 26, Nebros Città di Gela 25, Milazzo 24, Leonzio Mazzarrone 22, Ionica 21, Mister Bianco 18, Rocca Quedolcese 14 punti, Leon Fortese 13, Atletico Catania 12 come il Santa Croce, chiude Fanalino di Coda il Messana a 10 punti.